Il sangue è tornato a macchiare il lungomare partenopeo. Sono due le persone travolte da un pirata della strada a piazza San Nazaro nella notte tra domenica e lunedì. Mentre attraversavano a pochi metri dal luogo dove Giuseppe Iazzetta ha perso la vita in circostanze pressa poco identiche lo scorso 18 ottobre, i due, un quarantenne e una trentasettenne della Villinese, sono stati centrati in pieno dalla vettura che dopo l'impatto si è dileguata. Gravi le condizioni di entrambi. L'uomo è stato ricoverato in reanimazione, mentre la donna, che ha riportato una frattura del bacino e traumi in tutto il corpo, è invece all'ospedale del mare. Sarebbe dovuta essere una serata spensierata per la coppia, una pizza sul lungomare, poi il ritorno verso l'auto, camminata interrotta bruscamente quando una vettura le ha messi sotto. «Ho sentito uno schianto e mi sono diretto verso la piazza», ha raccontato Francesco Basile, collega di Elvira Sriba, che aveva perso la vita investita da un centauro che impennava a lungo via Caracciolo la notte tra il 28 e il 29 agosto scorsi. A terra, prosegue Basile, con la pancia rivolta verso l'alto, c'erano un uomo e una donna. Lui era inerme, lei chiedeva aiuto. Travolti i due pedoni, il pirata si era inizialmente dato alla fuga, ma dopo poco eccolo tornare sul luogo dell'incidente. Si tratta di un 24enne di origini partenopee. C'era lui alla guida della Fiat 500, che ha messo sotto il quarantenne la trentasettenne. Il giovane si sarebbe messo a disposizione delle autorità, spiegando che dopo un primo momento di panico si sarebbe recato dai carabinieri per costituirsi. Il racconto dell'automobilista è al baglio degli inquirenti, che nel frattempo hanno sequestrato la vettura e sottoposto il 24enne agli esami per il rilevamento di alcol e droghe.